aspettiamo che arrivi un po di gente allora ci siamo ecco ok apro la finestra della chat aspettiamo che arrivi un po di gente se spara i feed sta merda di youtube ecco siamo già in 11 nel frattempo che sta giocando la nazionale parliamo anche di cose di juve che sono abbastanza interessanti ciao mtt illis welcome tutto a posto siamo pochini oggi un po pochi vabbè pochi ma buoni non mi è ancora arrivata neanche la feed neanche a me cioè non si capisce veramente una mazza non riesco neanche a vedere in quanti siamo pochini ciao fdg benvenuto ciao tony ciao benvenuti come va pronti a questa ripresa di campionato perché la nazionale sta veramente stufando forse sta iniziando adesso a sparare qualcosa ormai youtube fa proprio schifo e a proposito di questo prima di cominciare voglio già dirvi alcune cose legate al fatto che il 26 si voterà un qualcosa di molto importante per il futuro di questa piattaforma ovvero la legge sul copyright a livello industriale a livello industriale a livello europeo scusate per cui le piattaforme come youtube la questione sul copyright eccetera è un po delicata perché va a colpire tutti noi creators di contenuti youtubers e questo scatenerà un po di casino ecco ciao stefano è tutto a posto diciamo questa sarà una live un po più breve vi consentirò poi di guardarvi la parte finale della partita in tutta calma giusto per sentirci e per chiacchierare anzi se siamo di meno avrete l'opportunità anche di rispetto alla media siamo molti molti meno perché youtube ormai sta facendo tutto ciò che vuole e purtroppo noi non abbiamo assolutamente controllo sulla questione innanzitutto iniziamo già a con salutare le altre persone ciao gian paolo colpo e altri della live voi scambiereste ericsson compianic io no ericsson è un tassello che andrebbe eventualmente a completare e a evitare questa coperta corta del centro campo perché comunque già con che dire e chan un po fuori siamo già in crisi ok altri della live gli altri questa è una live mia e per cui a volte ci saranno delle per degli ospiti e a volte no oggi c'era ben poco di cui parlare parleremo sicuramente del pallone d'oro in questa mezz'oretta parleremo sicuramente di della questione del bar e poi basta qualsiasi domanda che farete sarò ben lieto di rispondere allora ciao vincenzo ciao luca ciao secondo te tonali todiboh assensio vanno alla juventus a gennaio tutte e tre assieme impossibile sicuramente tonali di prospettiva assensio è già pronto todiboh sinceramente non lo conosco dovrei informare mi facci vedere le tette non sarebbe un bello spettacolo probabilmente youtube mi chiuderebbe il canale per radiosceni in piattaforma pubblica puoi darmi la tua impressione su marotta l'inter beh marotta ragazzi noi dobbiamo essere contenti no dell'operato di marotta fin qua e poi tanti in bocca al luce è veramente in bocca al lupo buona fortuna a lui noi dobbiamo continuare per la nostra strada si è fatta stata fatta una scelta societaria e per cui non spaventatevi anche quando gli interisti parlano della potenza di su ning vi ricordo che exor che è l'azionista di maggioranza della juventus è leggermente più grande ma non di poco è di molto poi non so dirvi i volumi esatti ma so dirvi che è uno sproposito per cui il paragone già non regge guardate stefano ti do queste notizie qua e ora si vendono i giornali sul mercato perché soprattutto quando non c'è la serie a si tende a parlare di mercato e di suggestioni di mercato per cui prendi tutto con le pinze c'è inutile che speriamo di vincere la champions purtroppo arriveremo a massimo in semifinale usciremo secondo me se il prossimo anno va via allegri via dibale e viene mbappé l'alzeremo ma non è questione di mica siamo a fifa via allegri via questo la vinciamo nulla è matematico nella champions è molto spesso è più importante il gruppo che non il talento di per sé per cui serve che ci sia un gruppo ben cementato che mette in mostra tutto quello che sa fare in quelle partite e poi anche che certi episodi inizino a girarci a favore perché la fortuna quando arriviamo in finale sparisce anni luce da noi ciao e ciao ciao luca manfredi pogba invece che fa alla fine è bella domanda per quanto rimane morigno c'è speranza sicuramente c'è speranza la raiola ne ha steccato un paio e piazzando questi giocatori allo united in premier anche perché ripeto la premier dal punto di vista del marketing fa barba ai capelli a noi al real a tutte quante però dal punto di vista del progetto tecnico di per sé secondo me la premier è un campionato sopravvalutato che poi al di là del fatto che possa piacere o non piacere è così tecnicamente e tatticamente stanno molto molto indietro il manchester united contro di noi al di là di questa vittoria fortunosa che hanno fatto al ritorno nel girone con noi sono poca cosa ve ne siete accorti che è poca roba noi abbiamo preso due pali ci siamo mangiati un sacco di gol siamo stati puniti con due gol da da stupidi due gol incredibili da parte loro però sono poca roba ecco poi ragazzi non paragonate quella prestazione al cammino che ci sarà in champions più avanti perché da marzo la testa cambierà cioè non si entrerà con la stessa mentalità non si affronteranno le partite con lo spirito in cui affronti una partita col manchester che sei quasi già qualificato potresti chiudere vero il discorso qualificazione qualificandoti come primo però non c'è la stessa motivazione che entrare magari in un quarto di finale in un ottavo di finale dove là sei dentro fuori la mette in campo tutto l'armamentario mentre magari col manchester sei limitato mentalmente precarietà questa cosa può essere criticata o meno però è la realtà a gennaio secondo me verrà fatto magari qualche colpo io mi auguro drac un colpo di prospettiva ho già fatto il video su sturaro perché probabilmente un suo rientro e non è per scelta della juventus in tanti anfrainteso probabilmente ma una scelta dello sporting e c'è un prestito da parte della juventus per sturare allo sporting sturare va appattuito col suo allenatore che visto questo infortunio che è capitato sarebbe rimasto a torino due mesi per curarsi e poi però avrebbe fatto ritorno a lisbona scaduti questi due mesi sturare non è tornato a lisbona per cui sono nate delle diatribe diciamo così tra società e giocatore per cui il prestito e questo rapporto potrebbe concludersi qua e sturare potrebbe tornare alla juve io mi auguro che la juventus trovi qualche altra squadra magari anche di serie a che sia pronta a prendersi sturare glielo impacchettiamo glielo diamo volentieri non mi va che la juventus vada a coprire questo slot con sturare sinceramente allora senso non credo che si smuovi dal real ma è vero lo so sinceramente secondo me questa nazionale di roberto mancini sta crescendo molto e presto arriveranno sempre più vittorie ma mi auguro che arrivino anche i gol perché fino all'ultimo passaggio molto spesso fino al tiro finale ci arriviamo bene poi ci chiamo la finalizzazione per cui c'è da migliorare sicuramente su questo aspetto anto quando esce il video di riti scheramantici e dovrebbe uscire dopo domani dovrei girarlo già domani sera per cui domani non ci sarà alcun video rimarrà questa live qua in streaming è disponibile per chi per chiunque volesse guardarla più in là e poi domani fare questa questa cosa la nazionale per ora stava pareggiando poi adesso mi sono dovuto spostare per cui aspetto anche aggiornamenti da voi ciao ale non credo nemmeno arrivi in bappe alla juventus per l'accessione di no non credo che arrivi in bappe secondo me è una cifra folle ciao ragazza chi speri vinca il pallone d'oro sinceramente nessuno no in realtà tra cui tre penso modric credo che lo meriti più lui ha portato la croazia in finale ha vinto la champions certo questo inizio di stagione non è così brillante però c'è da dire che gli va dato atto a modric che ha fatto una gran stagione comunque è stato protagonista in tutte le competizioni che sono sicuramente quelle sotto la lente di ingrandimento dei giudici che poi consegneranno al giocatore il pallone d'oro varan e come ho detto ieri nel video una scelta super discutibile perché faccio fatica a comprenderla in realtà ma lo meritevano secondo me più lo stesso ramos marcello ma no non mi piace varanno ok è sempre forza juve ma è vero che vogliono allargare lo stadio assolutamente no si è aperto eventualmente a un nuovo stadio ho letto qualcosa qualche titolo così ma non ho approfondito la questione quindi no se la tutti è tutto sport il novello 2000 no è molto molto peggio albe ciao pisto ciao pisto chi si è indignato per la scelta dei finalisti per il pallone d'oro si può parlare di una vendetta nei confronti di ronaldo arbatas ciao arbatas che sicuramente sei sardo visto il nick sinceramente non ti so dire pisto chi lo leggo solo quando scrive delle delle cose terribili e basta allora quale giocatore sarebbe ideale secondo te nel centrocampo della juve ma uno come pogba probabilmente sarebbe importante però a questo punto giocheristi con pogba pjanic e matri di matri di imprescindibile per la juventus è uno che riesce a dare equilibrio alla juventus per cui è fondamentale tu hai la one football su smartphone assolutamente sia la mostra perché voi magari non mi credete quando io la sponsorizzo durante le live reaction leggo sempre la formazione dalla e leggo la formazione propria da one football nelle live reaction sotto trovate il link potete scaricarla dalla guardate infatti sta guardando una partita ecco faccio vedere al volo è molto molto carina perché integra vedete integra delle belle notizie a c'è una questione tipo un blog che parla di calcio di tutte le squadre ai risultati sportivi per cui è molto molto completa a me piace veramente tanto sofascore sinceramente non la conosco visto qualcosa qualcuno che la sponsorizza anche su su youtube fa bene fa assolutamente bene assolutamente visto che noi non campiamo d'aria vi dico uno che fa lo youtube investe tanto e guadagna molto poco soprattutto agli inizi gente come noi per cui se riesce ad avere dei ricavi extra da questa cosa è giusto e doveroso perché altrimenti siamo sempre in rosso noi youtube ma non ci lamentiamo in obb o per c'è almeno per me è un obb rimane un obb per cui ripeto io vi consiglio qualcosa che ho testato e mi piace calcio a basso costo o dei prodotti e ve lo consiglio questa è di calcio a basso costo spettacolare vi consiglio anche alcune maglie da calcio perché sono fatte veramente bene poi se avete più soldi è giusto e doveroso investirli con non con le maglie replica ma con le maglie origina il var lo vogliono mettere aiutami quest'anno finalmente desci io deve essere un po più sicuro e potrebbe essere un buon terzino beh c'è da dire anthony che è sempre spaccato per cui deve anche riprendere molto spesso confidenza con il campo anche noi stiamo rinascendo come serie a è vero secondo me stiamo crescendo tanto allora colpo copo secondo te la serenità nel pescara possono arrivare seria non seguo tanto la serie la serie b stefano ciao alfonso benvenuto secondo te in quanti anni potranno mettere le mani sullo scudetto le altre pretendenti beh dipende per ora dipende solo da noi da loro dipende poco perché il gap tecnico tra noi e loro è importante però se loro sono in grado di investire di crescere dal punto di vista economico possono darci serie di fastidi perché poi c'è gente competente anche nelle altre squadre il milano ha una dirigenza nuova e bisognerà capire come si muoverà nel marecato da loro in poi c'è anche da capire le disponibilità economiche che avrà per comprare dei giocatori importanti però vediamo ecco le competenze in campo ci sono mancano sicuramente i soldi e quello il gap più grosso che loro devono colmare noi siamo stati bravi in questi anni in questi set dieci anni a investire sullo stadio a creare tutta una serie di presupposti per fare crescere il club anche dal punto di vista sportivo per cui sono due cose che vanno di pari passo e vanno curata la stessa maniera secondo te cosa manca alla juve ma secondo me siamo una squadra molto molto completa c'è sicuramente da migliorare sul centrocampo qualcosina probabilmente si può fare qualcosina e poi magari boh un terzino sinistro forse a meno che poi non torni spinazzola bello in forma a quel punto direi che siamo a posto se arriva a studia a studiare uccidiamo ronaldo e pigliamo balottelli tanto no dai non possiamo cedere ronaldo nel nostro dna non essere capace più del qualsiasi tipo di discorso sia in coppa che in campionato bisogna sempre soffrire quando invece potremmo vincere con più fattivo in più tranquillità non posso che essere d'accordo è un problema che ci trasciniamo già dal finale di stagione dell'anno scorso però varan ha vinto sia la champions che il mondiale sia armando ma allora diamo un premio a chi vince di più non al miglior giocatore questo intendo varan secondo me non è il miglior giocatore perché ci sono giocatori che hanno vinto tutto tutto veramente tutto e allora diamo i premi a chi vince di più perché allora daniel alves doveva avere un pallone d'oro l'anno o sbaglio ma spinazzola la spinazzola sta giocando con la primavera già fatto un gol anche vi consiglio di seguirmi anche sugli altri social perché su instagram quel gol l'ho messo proprio per congratularmi con spinazzola e anche su facebook metto delle cose diverse metto delle foto dei meme per cui è un altro tipo di approccio che ho su ogni piattaforma social se volete interagire su tutte le piattaforme mi raccomando iscrivetevi sia al canale e poi mettete il follow su instagram e il like alla pagina facebook allora sto perdendo colpi con lo scroll del mouse siete in tantissimi allora anch'io spero che tra questi lo vinca modric credo che varan sia stato messo lì perché il premio viene segnato dal giornale francese dovete capire che c'è la telecamera davanti quindi mi devo spostare per vedere la chat quindi quasi quasi la ricchiude rimane così aggiornamento risultato di svezia russia 1 a 0 a ecco tutti i risultati bene così allora a questo punto rabbio sarebbe l'ideale ma vediamo potrebbe essere un buon colpo a 0 perché in ogni caso lo potresti anche rivendere per cui ci faresti una cospicua plus valenza eventualmente pallone ad ora modric pallone d'oro dei bambini mbappé però dicono veramente ciao ciccio e a proposito dicono che il pallone d'oro per ora sia più sulle mani di mbappé che non di modric questo veramente sarebbe clamoroso clamoroso secondo te one football e sofascore si possono completare bene sullo smartphone credo proprio di no stefano è come cercare di integrare io ios con android sono competitor rimarranno competitor secondo me arriveranno a 10 scudetti di fila per poi fare un cd di storia per il decennio come dvd fidati sarà così e mi auguro che ci sia qualcos'altro bisogno rispetto a un dvd qualche altro formato se continuiamo così nel 2020 2021 ciao ero dotto calcio me ne giungo allora esce chiese entra grifo quindi va bene insomma mancini sta mettendo tutti i giovani di possiamo dire le petite rib ha fatto vincere l'europa league la super coppa la super coppa uefa e il mondiale cosa deve fare di più è probabilmente deve cambiare squadra a facci vedere la box la box e questo è vecchiotta è anche marridotta è un la vedete tutta graffiata qua quella fuori di metterle nel jeans una spyri speeder con gun sopra fantastico stai un po tremando freddo no ho l'abitudine di muovermi sul posto preferisco un bappé a modric tutta la vita allora sul giocatore non si discute anche perché modric e di prospettiva è molto probabilmente è un predestinato ad essere un gran campione però modric quest'anno ha dimostrato veramente tanto cioè portare la croazia in finale tanta roba e non dimentichiamo che la croazia è una nazione che ha 7 8 milioni non vorrei dire castronerie comunque una manciata di persone rispetto all'italia ed è riuscita a portarla in finale no io albe mi faccio i liquidi a casa allora oggi bella notizia emere torna a correre però ciccio la notizia era la seguente in realtà inizialmente brecciato doveva rientrare doveva rientrare se non erro subito dopo la sosta poteva invece a quanto pare rientrerà dopo a gennaio insomma per cui ve lo sapete cosa ne pensi di da che ha parametro zero possibile o ingaggio troppo alto sicuramente possibile becco un ingaggio troppo alto hai un ingaggio monster che quello di che quello di di ronaldo ovviamente però devi comunque vendere qualcuno devi vendere devi vendere scesni perché altrimenti scesni per in ed è un po troppi per un ruolo primo tempo allora pietro mascione ciao pietro primo tempo in cui la sterilità offensiva è figlia di due problemi non tiriamo da fuori non saltiamo l'uomo assolutamente ho visto il primo tempo io dell'italia mi è piaciuta la costruzione la velocizzazione della manovra anche sono bravi 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 proprio a cercare a giocare un po in verticale poi arriviamo sul finale ci intasiamo non riesco a capire perché probabilmente si deve lavorare tanto 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 sulla fase offensiva partire a meglio lasciare i guai in centrale o manzukic c'è da dire che con ronaldo mario lavora bene allora entro in questa è una questione molto delicata che mi piace è fatto veramente una domanda che mi piace sempre dare questa risposta ma perché così i guai in non è che l'abbiamo venduto per scelta tecnica ma per scelta obbligata a livello economico i guai in ragazzi per questioni di ammortamento e di ingaggio costava la juve qualcosa come 33 milioni l'anno un'esagerazione e siccome praticamente l'ingaggio di guai in tu lo devi spalmare sull'ammortamento sugli anni di contratto che gli fai lo paghi 90 ok per tre anni tu devi mettere 30 milioni l'anno in ammortamento più eventualmente l'ingaggio lordo questo ingaggio lordo va sommarsi sull'ammortamento quello il costo di quel giocatore quel costo effettivo i guai in visti gli anni di contratto che gli rimanevano visto quanto l'abbiamo pagato eccetera avevano una rimanenza di ammortamento e di spese per pagarlo vicina ai 54 milioni che poi la cifra per cui è stato venduto al milano quindi la scelta è stata puramente economica questo levarci questo peso economico ha permesso poi adatto in là all'operazione cristiano ronaldo non credo che ci sia stata alcuna richiesta da parte del celsi di cui si parlava di di sarri e così via no perché altrimenti la cosa si sarebbe chiusa molto molto prima infatti la juventus in quell'operazione iguain caldara e bonucci che torna indietro come un boomerang è stata proprio forzata perché la juventus era costretta a vendere è andato al milano e gli ha detto vi serve i guain ve lo diamo eh ci date 54 milioni e ve lo diamo e loro hanno detto guarda c'è anche bonucci che vuol venire noi ci prendiamo i guain però tu mi dai anche caldara perché altrimenti questa operazione non si fa la juventus presa per le palle vista i tempi stretti che rimanevano sulla alla fine del calcio mercato è stata purtroppo costretta a fare quest'operazione che ha fatto strocere il naso a tanti di noi inizialmente poi col senno di poi possiamo dire che a livello economico ci abbiamo guadagnato tutti in primis e secondariamente dal punto di vista tecnico noi anche perché con bonucci può stare sul cazzo o meno è vero abbiamo subito gol anche per colpa sua ok però penso anche che ci servono come bonucci in difesa ci serva perché abbiamo velocizzato veramente la manovra tantissimo mi sono incantato un po perché stavo leggendo una domanda di strade follia allora secondo te danni orgoglio piacerà mai pianici danni un amico però su pianici ci si scontra parecchio ci discutiamo tanto io non è che sono pro pianici io penso che pianici alla juve per come impostato il gioco della juve poi può piacere non piacere lui come giocatore è importante un giocatore molto importante che quando non c'è in campo la sua assenza si fa sempre sentire in un modo o nell'altro mentre per quanto invece riguarda la sua presenza anche se lui fisicamente lento a è uno di quelli che corre di più anche se non sembra andata a vedere le statistiche b è in grado di spostare palla velocemente di aprire il gioco velocemente e di dare in là l'azione su un altro binario è vero potrebbe verticalizzare di più potrebbe alzare di più la testa specie quando ronaldo va a iniziare determinati movimenti e molto spesso noi non siamo bravi ad avere quella velocità di pensiero di ronaldo e per cui ad innescarlo su questo sicuramente c'è da migliorare ma è questione anche di affiatamento e ho visto anche già qualche verticalizzazione da parte di pianici perché ne prova tre o quattro partita però non possiamo quotidianamente verticalizzare ogni partita così perché cioè siamo sempre la juve devi imporre gioco devi andare a schiacciare anche gli avversari a metà campo nella loro metà campo per cui pianici secondo me è un giocatore importante per come impostata la juve anche matuy di lo è il posto che balla sempre è quello tra che dirà bentancur e scusate ciao che comunque portiamo sfiga pensa sci che a caldara guarda ciccio ci ho pensato proprio l'altro giorno infatti ci ridevo su questa cosa marotta o quando dava questi giocatori faceva delle macumbe pazzesche perché altrimenti non si spiega però deve imparare a non perdere la concentrazione assolutamente d'accordo a tanti limiti e sicuramente sta anche tentando di limarli però è un giocatore importante e nel suo ruolo è inutile che ci rigiriamo secondo me non ce ne sono tanti poi si vuole esagerare sempre col paragone su pirlo ma uno come pirlo è oggetto di studio da parte di tutti gli allenatori però pirlo ne nasce uno c'è un fuoriclasse come dire e vabbè io ho quell'attaccante ma non è pelè e vabbè pelè te ne nasce uno e non è maradona di maradona te ne nasce uno spero di no come maradona perché se avessi uno come maradona e poi va a fare quello che deve fare addio però però eh ti dico che che ne so il nostro platini cioè gente così ne nasce veramente una ogni tot anni piani c'è un ottimo giocatore non è quel fuoriclasse alla pirlo per intenderci però nell'economia del gioco nella juventus ci sta alla grandissima ed è inutile che ci giriamo attorno perché io ricordo le partite dell'anno scorso andate a vedere quando pianic non ha giocato abbiamo sofferto maledettamente proprio a livello offensivo di giro palla di possesso palla tutto ciò che volete le abbiamo sofferte Verratti stava per segnare di testa io non ci credo no no infatti si vede che non ha segnato altrimenti questa live sarebbe esplosa sarebbe implosa non ci sarebbe stato più nulla più nulla eh sì mi ricordo pianici l'anno scorso la prima volta che era mancato abbiamo pareggiato la seconda ha perso ciao francesco concordo su tutto su pianici di fatti pianici a fine anno è risultato il nostro giocatore con la media chilometri percorsa migliore davanti anche a matti di questo mi convince sempre di più che debba fare la mezzala ma infatti non non è escluso è una cosa simile però a quel punto Marco devi avere un centrocampista che è fisico un lonzonzi della situazione o il Casemiro della situazione che va e ti fa il mediano allagattuso per intenderci no e hai due mezzale tecniche però per come impostato attualmente il centrocampo della Juve va bene perché alla Juve hai due riferimenti bassi uno è pianici uno è bonucci ciò molto spesso costringe gli allenatori avversari a incasinarsi un po' sul pressing sulla fase di pressing perché se vai su pianici liberi i bonucci e viceversa ma quest'anno abbiamo anche un armen più che sono gli esterni usciamo molto velocemente anche degli esterni noi siamo molto gravi ad uscire quest'anno perché abbiamo più opzioni finalmente questa è la cosa che sono riusciti a migliorare a livello di mercato la Juventus con Cancelo Alessandro Bonucci là c'è la Pjanic per cui abbiamo completato questa fase qua siamo veramente bravi allora vi dico solo che il centrocampo regge tutta la stagione flash si riprende avremo tantissime possibilità di vincere tutto e se si riprende anche tu la scosta che ne pensi di Eriksen come idea per il centrocampo fortissimo sicuramente bisognerà capire come si adatterà qua perché c'è da dire che in premier vagano per le praterie perché ci sono degli spazi pazzeschi allora io penso che Eriksen aumenterebbe la qualità delle palle per gli attaccanti beh sicuramente è un giocatore da cioè da che unisce un po' le parti che fa da collante tra l'altro se Verrati comincia ad avere rendimento costante no io non lo prenderei Verrati non mi piace in fase difensiva e gli mangia in testa a chiunque il vira della situazione bravo Emre Can centrale come ha già fatto Allegri prima di perdere il tedesco però sai che cos'è Marco Emre Can lo può fare quel ruolo lo può fare anche bene il problema è che tu gli levi la capacità di fare quello strappo palla al piede che molto spesso è in grado di fare cioè lui prende palla e avanza è in grado di saltarti in uomo e di darti superiorità numerica questa cosa te la fa Allan 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 piace anche a me da impazzire Emre Can potrebbe essere il nostro mastino utile a coprire Pjanic sicuramente sono delle opzioni che sono valutabili e mi pare che in qualche frangente anche Allegri quest'anno l'abbia fatto inizio anno Verrati è troppo immaturo di testa a volte gioca con leggerezza vero perde la testa anche molto spesso e fa anche falli stupidi Pjanic potrebbe essere sostituito solo da qualcuno con le stesse caratteristiche ma nettamente superiori tipo Modric ma neanche perché Modric secondo me è più mezzala che non regista basso fatto curioso Allegri la mattina si alza e va a picchiare Emre Can per farlo fortunare e far giocare sempre anche che dire si è fatto male stavolta non non per questioni muscolari ma per una distorsione alla caviglia con Emre Can abbiamo preso un bidone ma scusami come fai a valutarlo in questo lasso di tempo così corto a Liverpool non era un bidone è lasagna si è mangiato un gol oltre che la lasagna ecco mi ha rubato anche la battuta vediamo altre due cosettine poi vi lascio finire la partita in santa pace anche io vado a riposare siamo al giro di boa della settimana quasi sono un po' incasinato perché sono alla ricerca di una action camp per la live reaction allo stadio per cui c'è da migliorare tanto sulla qualità video speriamo che domani il marchio che che mi interessa apre questa action camp faccia uscire queste novità perché siamo al black friday quindi che scontino a velocemente vedrete un giocatore da Napoli ecco bravo esatto allora va vi siete spenti in chat allora mi sa che passiamo direttamente ai saluti quando sarà il primo gol di Emre Can vediamo quando si riprenderà presto ragazzi io mi sa che vi saluto vi do appuntamento a dopo domani con il video disagio gobbo cioè la rubrica era sulla scaramanzia vi ho chiesto di inviarmi un audio registrazione alla pagina facebook ascolteremo i vostri audio che saranno sicuramente molto molto interessanti e faranno parecchio ridere ciao giovanni ti saluto subito che liquido usi te lo seduto ti dico che li faccio io ti dico la marchio il marchio della roma e quindi chiudi il discorso svapo dream odds questo è lemon tart è qualcosa di spettacolare vi invito a iscrivervi al canale ci vediamo dopo domani col video su quella rubrica molto molto interessante che vi coinvolge direttamente poi tornerò con le live reaction dallo stadio per juventus pal ci saranno sicuramente altri video un altro video che farà da collante anche qua tra il video disagio gobbo e la live reaction e vi auguro una buona serata una buona continuazione per la partita fatti bravi e a presto sempre fino alla fine forza juve grazie a tutti grazie a tutti